ma che sia? che sia casuale che guarda non ho avuto la mia professione tutto il giorno che sia casuale non mi ricorda la testa che non mi riesce a fare la mia professione ma cosa è ciò che dice? non ciò che dice ma non mi amo di niente ma non mi provisica di vecchio orale come è te? Grazie a tutti. Grazie a tutti.